calcinacci caduti dal tetto di un sottopasso sulla sede stradale che hanno solo per pochi metri evitato di danneggiare le auto in transito è accaduto nel sottopasso carrabile in strada comunale tomba crinaccio che porta al parcheggio del centro commerciale del fano center in località chiaruccia un sottopassaggio frequentatissimo nelle ore di punta che viene utilizzato da automobili e furgoni ogni giorno anche perché consente di effettuare una sorta di scorciatoia per chi deve recarsi al centro commerciale anche a ora di pranzo è frequentato quindi da centinaia e centinaia di veicoli giornalmente ed è stato proprio un utente della strada che lo utilizza giornalmente a segnalarci la caduta dei calcinacci non sono di grosse dimensioni certo da rappresentare un pericolo reale per le vetture in transito ma pensiamo ai danni che potrebbe fare colpendo il parablezza di un'auto in movimento creerebbe certamente una crepa che costringerebbe il proprietario dell'automobile alla sostituzione con un esborso di diverse centinaia di euro oppure ad uno scooterista che potrebbe essere colto di sorpresa e cadere insomma tutte cose che è meglio evitare i calcinaggi provengono dalla giunzione delle due parti del sottopasso dove le infiltrazioni d'acqua hanno lavorato sui tondini in ferro che arrugginendosi hanno spaccato man mano il calcestruzzo e che continueranno inesorabilmente a farlo nella giunzione che si trova proprio al centro della carreggiata certamente la staticità della struttura non è compromessa per così poco ma è lo stato di degrado in generale del manufatto che preoccupa e che non si presenta nelle migliori condizioni alla vista sia nel tunnel che nelle entrate dove i calcinacci anche se solo di pochi centimetri potrebbero diventare le prossime volte di dimensioni diversamente più grandi ultimo ma non ultimo aspetto la vegetazione da tempo lasciata a se stessa che ovviamente fa il suo corso impossessandosi centimetro dopo centimetro di parti della struttura come sul lato del parcheggio dove gli arbusti hanno anche sradicato parte della rete di recinzione di protezione per la superstrada ed è un sostegno in ferro che è pericolosamente penzolante come una spada di damo che sull'ingresso del sottopasso una folata di vento bella tesa come quelle dei giorni scorsi e la pesante struttura in ferro potrebbe venire giù speriamo non al passaggio di nessun utente di nessun automobilista